Negli studi di TVC, Tim Palomba, nipote del maestro e artista Vito Esposito, purtroppo recentemente scomparso. Un suo ricordo dell'uomo, dell'artista e del nonno. Mio nonno è stato un uomo straordinario, un grande artista, uno di quelli che meglio di chiunque, almeno per me che sono la nipote, è riuscito a dare valore alla città di Torre del Greco con tutte le sue opere. Io credo che nella casa di ogni torrese ci sia una sua opera, dalle marine, dai paesaggi che ritraggono Portosalvo, ma anche qualcosa che riguarda i paesaggi con lo sfondo del Vesuvio, oppure le ultime opere che ritraggono l'Immacolata, la nostra Basilica, oppure i ritratti del Santo San Vincenzo Romano. Io credo che davvero sia uno di quelli che è riuscito a dare un contributo concreto all'importanza a livello artistico della nostra città. Infatti ricordo uno dei suoi ultimi lavori, proprio l'anno scorso, all'inizio della pandemia, della Basilica, della nostra città, con questo bellissimo arcobaleno che sovrastava questa nostra immensa piazza. E' stato uno dei suoi modi per dire che andrà tutto bene. So che andrà comunque tutto bene, noi nipoti ci siamo confrontati tra di noi in questi giorni e abbiamo ricordato questi bellissimi cieli che solo lui sapeva dipingere, questo celeste mescolato a rosa e sono sicura che quando vedremo questi colori riusciremo ancora a ricordare un modo di dipingere unico che solo lui poteva. Io infatti penso, se mi capita di vedere un arcobaleno, allora penso che sia stato davvero lui a volerci dare un ultimo messaggio, così come ha fatto nel quadro dell'anno scorso con questo arcobaleno sulla nostra Basilica. Un uomo straordinario, un grande artista, affrontava le difficoltà della vita con il sorriso, mi ha trasmesso la passione per l'arte. Nei ricordi di Imma Palomba, nipote del maestro Vito Esposito, recentemente scomparso all'età di 87 anni, il senso di un legame senza tempo. Cosa le mancherà di più? Mi mancherà il suo modo di parlarmi di pittura, di arte, il suo modo di, a livello artistico questo, visto che mi ha trasmesso questa passione, a livello umano mi mancherà il suo modo di affrontare tutto sempre con un'enorme ironia. Mio nonno era di un'allegria unica, l'unica nel suo modo di fare, di pensare, di ragionare, anche nei momenti di difficoltà appunto. Lui era uno di quelli che riusciva sempre a trovare il buono in tutto, anche in un momento difficile riusciva a risollevare tutti noi, sempre con il suo modo di fare, cioè con la sua pittura, a modo suo diceva andrà tutto bene. E noi ci crediamo ancora che andrà tutto bene, nonostante tutto. Lei ha seguito le orme del nonno nella sua professione di docente oggi? Sì, attualmente insegno, anche se da poco, diciamo con la sua guida, che adesso ho la passione per l'arte, per la pittura, ho studiato architettura, quindi sono un architetto e lui mi ripeteva sempre e a me piacerebbe tanto vederti insegnare, perché riusciresti bene in questo. E sono contenta di averlo reso fiero, reso orgoglioso, così come tutti i nipoti l'hanno reso orgoglioso. Lui ha insegnato tanti anni, quindi ancora oggi quando mi rapporto con i ragazzi, lo faccio sempre portando un po' di insegnamento del nonno, perché non è stato solo un nonno per me, ma proprio un maestro. Un maestro d'arte e un maestro di vita? Un maestro d'arte e un maestro di vita, sicuramente, per questo è difficile da dimenticare. Per questo io porto addosso tutto quello che ha potuto insegnarmi, dal livello umano al livello professionale, tutto grazie a lui. Tanto ha dato alla vita artistica di questa città, tanti sono stati in questi giorni i messaggi di cordoglio. Tantissimi, io sono rimasta entusiasta di questo calore che ci ha dimostrato tutta la città di Torre del Greco, dal sindaco, l'amministrazione comunale, tanti artisti illustri che hanno voluto ricordarlo, tanti amici. Veramente ho avuto tantissimi messaggi, io come mio zio, mia madre, la mia famiglia, insomma siamo davvero grati di questo ricordo che ognuno ha voluto dare a modo suo al nonno. Grazie di cuore, davvero.